E' un lavoro che mi ha coinvolto tantissimo emotivamente e fisicamente, è la storia di Paolo Pizzo, un campione del mondo di scherma e avrà un'altra, ha avuto una battaglia molto più ben complicata che quella di un tumore che ha dovuto sconfiggere ma nonostante ciò riesce a diventare campione del mondo ed è una storia che sono quei personaggi che poi ti rimangono sulla pelle per tanti anni, per tanto tempo e ho imparato una cosa da questo film che a volte nella vita si cade e non per forza bisogna rialzarsi subito anzi è bello vedere il mondo da terra, da un'altra prospettiva e poi trovare la mano giusta che aiuta a tirarti su e quindi questa sera che andrei in onda il film per me è una finale anche come attore, è un campionato del mondo quindi invito tutti i miei concittadini a tifare anche un po' per me e a partecipare a questa sfida di questa sera e sono convinto che è un film che lascerà il segno a tutti voi e noi che l'abbiamo fatto E questo è il travaglio emotivo e poi c'è anche una preparazione fisica perché per essere un campione del mondo Alessio Vassallo si è impegnato e si è allenato Io mi sono allenato, la cosa bella è che io mi sono allenato con lui, cioè lui stava preparando il campionato italiano e io la mattina mi svegliavo presto, andavo a correre con lui, con il maestro di scherma, il maestro di apnea avevo un maestro di apnea anche ed è stato un lavoro fisico veramente intenso, faticosissimo perché ti rendi veramente conto che cosa significa il sacrificio nello sport e anche un po' nel nostro mestiere cioè lavori per mesi, porti il fisico proprio al massimo dello stremo per poi pochi minuti di un duello o 90 minuti di una partita di calcio o 10 secondi quando fai 100 metri, 9 secondi è lo stesso un po' il nostro lavoro, fai delle prove, ti prepari per mesi per poi per un film che dura un'ora quindi è stato molto anche interessante questo confronto del sacrificio e attorialmente volevo capire che cosa significava andare a letto con le ossa rotte Al di là degli incontri necessari per sviluppare poi la conoscenza e interpretare il personaggio hai imparato qualcosa e l'hai detto, resta poi un'amicizia, un rapporto con Paolo Pizzo? Assolutamente sì, non facciamo altro che scriverci, che insultarci in maniera giocosa quindi quando inizi a insultarti già sei in uno stadio avanzato dell'amicizia perché sono quei ruoli, come ti dicevo, che rimangono addosso sul set era incredibile perché alcune volte veniva la moglie o qualche familiare che chiamava Paolo e ci giravamo insieme, cioè siamo veramente entrati in simbiosi e quindi sono appunto personaggi che ti porti anche oltre il set l'amicizia con Paolo dura ancora oggi e penso che soprattutto un pensiero va a lui perché stasera rivedere la sua storia, la sua vita in un'ora e mezza sarà molto emozionante Non è la prima volta, anzi sono tante le volte in cui sei stato in prima serata su Rai 1 ti emozionerai stasera? C'è qualcosa che richiama un battito del cuore quando ti metterai davanti alla tv? Ti metterai davanti alla tv? Sì, 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 non sono di quelli che dicono no, non vedo quello che ho fatto no, 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 mi metterò davanti la televisione e sì, sarò molto emozionato perché è un film che aspettavo insomma l'uscita da tempo, so il lavoro che ho fatto e sento anche una responsabilità molto importante rispetto a tanti altri personaggi e tante altre fiction perché quando comunque interpreti una persona che esiste che è un tuo coetaneo, che ha anche tante cose in comune con te anche se ha una vita differente, la responsabilità è molto più grande perché bisogna entrare in punta di piedi a raccontare la vita di qualcun altro che non è soltanto un personaggio nato da una penna di uno sceneggiatore ma è un personaggio in carne e ossa, quindi cavolo se sono emozionato Rai 1 in prima serata significa numeri, significa audite, significa necessità e questa è la domanda, c'è l'ansia da prestazione anche per uno abituato a grandi numeri a grandi livelli di vita? Sì, qui mi gioco per questo, dico amici palermitani, mi sento un politico questa sera so che mi volete bene, mi seguite da anni, però è veramente un duello, una sfida anche per me, quindi chiedo il vostro supporto, però sai noi rispetto magari a te che sei abituato alla diretta dove poi è tutto lì in quel momento, io il mio l'ho fatto, stasera lo devo soltanto guardare, quindi avrò l'ansia, ma non ho l'ansia che magari tu conosci bene anzi pure la disperazione, perché a Tifando Palermo sappiamo di che cosa parliamo quindi il nostro noi l'abbiamo fatto, adesso lo mettiamo nelle mani vostre, nelle mani del...